L'elezione a consigliere regionale di Antonio Blasioli, vice sindaco di Pescara, porterà probabilmente all'ennesimo rimpasto di giunta. Già partito il totonome, si parla di Marco Presutti, anche di Tonino Natarelli, potrebbero essere questi nomi giusti? Sono nomi validi, come sono nomi validi tutti i membri della giunta attuale per fare il vice sindaco, così come tra i consiglieri ci sono tante persone che sarebbero in grado anche in due mesi di dare un buon contributo all'attività amministrativa e a governare Pescara. Quindi aspettiamo le valutazioni serenamente, le faremo come abbiamo sempre fatto in maniera collegiale, cercando di trovare la soluzione migliore. Qui al termine della consigliatura, quali sono le priorità per l'amministrazione comunale? Quali gli impegni che cercherete di portare a termine da qui a maggio? Sicuramente dobbiamo portare a termine la partita urbanistica con l'approvazione definitiva delle norme tecniche, l'applicazione della legge 40, il riordino dei comparti. Sono partite importanti che la città e i cittadini, quindi non solo, e le imprese aspettano. E credo che siano temi su cui sia anche facile trovare una buona convergenza all'interno del Consiglio Comunale, anche con l'opposizione. C'è poi l'area di risulta, su cui però incombono le 3.000 osservazioni presentate dalle opposizioni, e c'è la società di riscossione, l'ente di riscossione che vorremmo andare a formare, su cui anche su questo c'è una buona condivisione anche da parte dell'opposizione, per migliorare quella che è la qualità delle entrate comunali e del recupero delle entrate comunali, senza chiaramente che questo vada a scapito poi dei cittadini pescaresi.